Incidente autonomo oggi pomeriggio intorno alle 17 lungo la via Flaminia, non distante dalla filiale della BCC di Cucurano. Una signora del posto di circa 60 anni ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto Celeste, forse a causa del sole che particolarmente in queste ore della giornata ostacola la visuale, schiantandosi contro la protezione in ferro che delimita il marciapiede e ribaltandosi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Fano e Cartoceto e una squadra del 118 che ha da subito soccorso la signora e portata nell'ospedale cittadino dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti anche se le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi visto che a quanto sembra la signora è da subito uscita in maniera autonoma dall'autovettura. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e persone ma tanta è stata la paura per gli abitanti del posto che appena avvertito il forte botto sono accorsi sul luogo dell'incidente.